Informarsi per conoscere, conoscere, per combattere. Il nemico in questione è il batterio che sta uccidendo gli ulivi e mettendo in ginocchio il salento, la xylella fastidiosa. In tutta la provincia di Lecce si organizzano incontri informativi ed anche a Ruffano l'amministrazione comunale ha voluto invitare gli esperti del settore perché spiegassero ai cittadini cosa stia realmente accadendo alle campagne e cosa si possa fare per arginare il fenomeno della moria dei giganti verdi. E' chiaro che le lotte batteri non si possono fare direttamente ma vanno fatte attraverso dei protocolli che individuano la presenza dei vettori e quindi combattere i vettori. Noi ci stiamo muovendo in questa direzione, abbiamo preparato un piano di rotta integrata che comprende diverse misure sia meccaniche che fitosanitarie recuperando tante di quelle operazioni e pratiche agricole che forse da un po' di tempo non si facevano più negli oliveti della nostra provincia. In particolare l'uso di determinati prodotti a basso impatto ambientale che comunque sono anche attivi sul vettore, il filenus spumarius e che quindi contribuiranno a contenere la popolazione di questo vettore. A difesa di una cultura, quella dell'olivo, che rappresenta per il nostro Salento la ricchezza, è chiaro che c'è un grosso danno economico oltre che un grosso danno paesaggistico perché il Salento si caratterizza proprio per la presenza di questa stupenda pianta. Allora stiamo cercando insieme con gli esperti, importanti esperti di questa sera, di dare delle linee guida ai nostri agricoltori, alle associazioni di categoria, proprio per cercare di superare per lo meno questo periodo in cui i nostri alberi vediamo morire. E' stata evoluta l'occasione di avere soltanto dei tecnici, proprio per non cercare di buttarla nella mischia politica. Siamo alle porte di una importante campagna elettorale e quindi il tentativo di rimanere quanto più lontani possibili dalle polemiche politiche e cercare di rimanere invece concentrati sul tema della Xilella. Ecco, questo è l'obiettivo che l'amministrazione comunale si è posta in questa circostanza. Noi siamo in prima linea per difendere quelle priorità che rappresentano in qualche misura l'economia reale del Salento, qual è l'olivicoltura e noi ci batteremo affinché ovviamente possiamo garantire ai nostri figli, alle generazioni future, quella che è grossomodo, come devo dire, la realtà contadina e quindi difendere quello che i nostri padri ci hanno preservato. Grazie a tutti.